Oggi possiamo dire che abbiamo certezze che ieri non avevamo e per quale motivo abbiamo queste certezze. Per chi? Per una persona sola. Cristo Gesù. Fate ogni cosa nel nome di Cristo Gesù. Tutte le cose che chiederete al Padre mio, nel mio nome, Egli ve le darà. Nel mio nome. E' Cristo davvero il tutto della tua vita? E' Cristo al centro della tua vita? E' Cristo nella tua mente, nel tuo cuore, nelle tue giornate? Dove è Cristo? Dove l'hai lasciato per tutto questo tempo? L'hai messo ai confini della tua vita? L'hai messo da parte? Questo è tutto. Cristo esige di essere al centro della tua vita. Egli è tutto per noi. Non potremmo fare a meno di Lui. Ma oggi è il giorno della grazia. Oggi è il giorno che Dio ti parla. Egli è ancora colui che dice venite a me. Voi tutti che siete aggravati e travagliati. Io. Nessuno lo potrà dire nessun altro. Io vi do riposo. Vi do il vero riposo. Vogliamo rimettere al centro della nostra vita la persona di Cristo Gesù. Se l'hai rinchiuso da qualche parte della tua vita, del tuo cuore. Se l'hai messo per troppo tempo in qualche cassetto, va. Apri il tuo cuore. Gesù vuole entrare. Vuole diventare il tuo Salvatore, ma anche il Signore della tua vita. Gesù vuole diventare il tuo Salvatore, ma anche il Signore della tua vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.